Questo è un Saiga TR3. Prodotto in Russia, questo modello incamerato in 7,62x39 monta tutte le ultime migliorie per la famiglia AK. La tacca di mira posteriore è montata più distante rispetto al classico posizionamento a metà fucile, consentendo una maggiore precisione durante il tiro mirato senza dispositivi di puntamento. Il paramano frontale in polimero presenta già due slitte per accessori nella parte superiore e inferiore, con la possibilità di installarne altre due lateralmente, e a completare il corredo accessori un grip ergonomico e un calcio collassabile, ma la vera chicca è la sicura, che presenta un'ulteriore superficie per azionare agevolmente con un solo dito la sicura del fucile. Questo era la K in meno di un minuto.